Bebevio, ricerca sul movimento per progetti ambasciatori della scienza e della filosofia. Lavoro di Alessandro Magnoli, Caterina Urbani, Elisa Grassini e Roberta Ricci. Classe terzo A del liceo scientifico Mazzatinti di Gubbio. Beatrice Maria Adelaide Marzia Biograndis, detta anche Bebevio, nata a Venezia il 4 marzo del 1997, è una schermitrice italiana, specialista nel fioretto, campionesso, paralimpica, non solo europea ma anche mondiale. La protica scherma dall'età di 5 anni e mezzo e il 20 novembre del 2008, all'età di 11 anni, viene colpita da una meningite che le causa un'estesa infezione, tanto da costringere all'amputazione degli arti. Dopo 104 giorni di ricovero è uscita dall'ospedale e ha ripreso immediatamente la scuola. In seguito si sottoporrà a riabilitazione motoria e fisioterapia presso il centro protesi INAIL di Budrio, presso Bologna e, circa un anno dopo l'insorgenza della malattia, riprende l'attività sportiva di schermitrice. Anche di livello guinstico, grazie a una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto. Da allora è apparsa come testimonial in molti programmi televisivi, per diffondere la conoscenza della scherma su sedia a rotelle e dello sport paralimpico in generale. Nel 2009 la sua famiglia fonda Art for Sport, onlus di sostegno all'integrazione sociale tramite la pratica sportiva dei bambini che hanno subito amputazioni. Nel 2012 è tra i Tedoforia e i giochi paralimpici di Londra. In occasione di Expo 2015, Vioi è scelta quale testimonia della Regione Veneto alla rassegna internazionale. Le Paralimpiadi sono una competizione sportiva internazionale che riunisce atleti con disabilità fisiche dovute a diverse cause come incidenti o malattie. Nascono nel 1948 in Gran Bretagna, quando il neurochirurgo tedesco Ludwig Gutmann, proprio durante le Olimpiadi di Londra, inaugurò i primi giochi per persone disabili con lesione al midollo spinale. 14 uomini e due donne si confrontarono nella disciplina del tiro con l'arco. La filosofia dietro a questa iniziativa storica era quella del recupero psicofisico e sociale di persone con disabilità permanente attraverso l'attività sportiva, senza bisogno di farmaci come la morfina. Una sostanza molto usata nella medicina dell'epoca, che era in grado di ridurre il dolore, ma stordiva e rendeva dipendente chi ne faceva uso ricorrente. Nella scherma tradizionale, grazie all'uso delle gambe, l'atleta può indietreggiare per schivare, parare o anche portare in affondi i colpi, mentre nella scherma paralimpica le carrozzine vengono ancorate direttamente alla pedana di gara e quindi è indispensabile che l'atleta abbia una prontezza di riflessi. Le discipline che vengono praticate sono tre e bisogna scegliere accuratamente quale praticare in base ai nostri punti di forza, considerando che il fioretto è un'arma per precisi, la sciabola è per irruenti con capacità motorie elevate e la spada è uno sport per pensatori. Tra tutte queste discipline, la nostra Bebevio ha scelto di praticare il fioretto, dedicandosi a questa disciplina con tutte le sue forze. Ovviamente per riprendere dalle nazi dopo la malattia, Bebevio ha sfruttato diversi tipi di protesi, a seconda del movimento necessario all'esercizio. Infatti esistono tantissimi tipi di quest'ultime. La principale che usa quotidianamente le consente di aprire e chiudere la mano. Questi movimenti vengono resi grazie a due elettrodi che si attivano attraverso un movimento dei muscoli che muovevano le dita. Mentre per praticare schermo utilizza una protesi che non permette il movimento delle dita e neanche ha sensibilità al tatto, a supporto di una maggiore stabilità e controllo, unita a una maggiore possibilità del movimento. Grazie alle protesi alle gambe addirittura riuscite a praticare un allenamento di schermo in piedi.